Amici di Inter, fan tv, cuori forti, nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre videopaggelle. Giornata nera, lunedì 23 di gennaio. Dopo la vittoria in Supercoppa italiana, festeggiata anche prima della partita, l'Inter perde con l'Empoli. 0-1 al 66esimo, appena entrato Baldanzi batte Onana, Inter che era già stata ridotta in 10 nel primo tempo per il doppio cartellino giallo a Skriniar che va a fare due falli anche un po' da un'altra parte, diciamo c'è sul centro-sinistra, non nella sua posizione naturale ma non è quello il punto che era in un'altra posizione, soprattutto il secondo fallo sei già ammonito al 39esimo perché vai a entrare in una maniera così scomposta. Inzaghi dice non mi era mai capitato di restare in 10 nel primo tempo in casa. All'Inter era capitato di rimanere in 9, ricordo Inter-Samp con Murigno, tra l'altro Inter che se la giocò in quella volta anche col 4-3-2, anche in 9 col 4-3-1. Io oggi non ho capito tante cose delle scelte di Inzaghi, ho provato anche un po' a chiederglielo in conferenza, cioè se nel secondo tempo si poteva provare a restare a 4 dietro, come poi l'Inter è rimasta ma dopo aver subito il gol al 72esimo è uscito Darmian, è entrato Dzeko, è entrato anche Aslani al posto di Barella che tra l'altro per me è vero che era ammonito ed era nervoso ma era quello che correva di più, io non l'avrei mai tolto Barella, al massimo lo chiamo e gli dico mi raccomando, basta, non protestare, ma ci serviva troppo, in inferiorità numerica non si può togliere quello che sta meglio dal punto di vista della corsa perché è ammonito. Tra l'altro ammonito, diffidato, salterà Cremonese-Inter così come salterà Cremonese-Inter, anche Screener che è stato espulso. Poi nel finale entra anche Lukaku e da 5-3-1, perché poi parlerò del primo dei cambi, lo lascio all'ultimo proprio perché c'è da commentare di più, e dicevo poi entrano anche Gossens per Di Marco, sempre al 72esimo, sempre dopo il gol subito, ma sei minuti dopo il gol subito, stava entrando anche a Cerbi, poi cambia idea, Inzaghi non lo mette più, De Vrij che nel secondo tempo non ce la faceva davvero più, anche se ha preso una traversa, ma sui gol dietro la difesa faceva acqua, anche nel primo tempo ha rischiato qualcosa e poi ripeto entra anche alla fine Lukaku per uno stremato Michi, Tariana addirittura si gioca con Dzeko, con Lukaku e con Lautaro ma credo che il pallone oggi non sarebbe mai entrato perché Gossens due volte, Dzeko una volta, la traversa di De Vrij, nel finale l'Inter giocava solo con le palle lunghe provando a cercare la sponda e si poteva pure provare prima questa cosa qua. L'ho chiesto pure a Zanetti al di là dei complimenti di Lempoli che arriva a 25 punti, più 13 sulla zona retrocessione, meno 3 dal settimo posto, una squadra che gioca sempre, che ha iniziato con sempre il solito atteggiamento con il trequartista, Bairami, con Cambiaghi e Caputo, Satriano è entrato solo nel finale, l'autore del gol che ho detto, però l'Inter dopo aver vinto con il Milan 3-0 non può entrare in campo con questo spirito, anche Cialanoglu l'ha ammesso alla fine della partita, ha detto siamo entrati in campo non bene, male, male perché poi vedi le partite se non vai a sbloccarle, l'Inter che tra l'altro è una delle squadre, abbiamo detto anche alla vigilia che più di tutte segna nei primi 45 minuti, invece oggi al piccolo trotto sì, qualche tiro di Marco, cross bello da destra di Cialanoglu, tiro al volo, però non con la giusta cattiveria, non con la giusta cattiveria, e poi nel secondo tempo ecco il cambio dopo l'espulsione di Skriniar, Darmian passa dietro nel secondo tempo, esce Correa entra a Bellanova, cioè l'Inter si mette col 3-5-1 o 5-3-1 in fase difensiva e nei primi 20 minuti sta lì in 10 e Inzaghi tra l'altro ci ha pure detto, il piano partita era aspettare il finale per inserire Dzeko e Lukaku, io ho detto ma non si poteva giocare per esempio a 4 cercando a centro campo di contrastare di più il possesso delle Empoli? No, per lui l'Inter ha rischiato meno nella prima mezz'ora, nei primi 25 minuti del secondo tempo, 21, fino al gol subito in contropiede, che non nella prima mezz'ora, è vero, nella prima mezz'ora ha concesso anche lì qualcosa all'Empoli, però nei primi 21 minuti del secondo tempo già c'erano state le avvisaglie, c'erano state altre due azioni dell'Empoli, mentre l'Inter era lì agonizzante in 10, noi che in 10 non si può fare niente, e ripeto magari bisogna prendersi qualche rischio dietro l'uno contro uno, mentre davanti con Dzeko in più si doveva dare una mano a Lautaro che non era proprio nella sua miglior giornata, è vero che tanti erano un po' stanchi, però l'atteggiamento in generale non va bene, dopo la Supercoppa si era detto che doveva essere una spinta per la seconda parte di stagione, invece è stata affrontata la partita come se non contasse niente per il vertice, attenzione perché con questo atteggiamento non è che il quarto posto, siccome la Juventus è penalizzata, è semplice, c'è la Roma che è già a 37, la Lazio che deve giocare stasera con il Milan, domani sera con il Milan e anche può arrivare a 37, Inzaghi continua a dire, a parte il Napoli siamo tutte lì, ho capito, ma sono 37 punti nel girone d'andata, c'era una grande possibilità di chiudere secondi a 40, che non era lo stesso granché 5 sconfitte, ma ora le sconfitte diventano 6, 2 in casa e si è visto ancora una volta al di là degli errori di Skriniar, che tra l'altro poi ha pensato bene la gente di parlare proprio oggi, non so se proprio prima della partita perché l'intervista è uscita durante il primo tempo a Telenord, in cui tra l'altro ricostruisce un po' così in modo particolare tutta la vicenda, forse anche senza dire tante bugie, ma la cosa principale dice l'Inter ci aveva messo in vendita, aveva messo in vendita Skriniar e questo lo sapevamo, poi la trattativa si è interrotta, ci ha comunicato sia quando l'ha messo in vendita che quanto si è interrotta, da professionista ha accettato ed è rimasto, darà sempre tutto eccetera, poi noi abbiamo fatto una nostra richiesta per il rinnovo, ci siamo sempre presentati agli incontri, l'Inter ha fatto all'inizio di novembre la sua proposta, noi l'abbiamo rifiutata prima di Natale, abbiamo ribadito prima della Supercoppa di sentirci liberi di trovare un'altra squadra al momento, c'è questo al momento, però dice che al momento non se ne parla proprio di rinnovo, non c'è solo il Paris Saint Germain, ce ne sono altre, ma ragazzi allora se tu hai detto io resto, io resto, potevi dire, ripeto, come Bremer, come Koulibaly, come De Ligt, guardate che io non rinnovo, invece no, lui dice, no, io voglio fare la trattativa per il rinnovo, ma quanto chiedi per sto rinnovo, 8 milioni, 9 milioni, sono cifre che è inutile chiederle, è una falsa richiesta, è una falsa richiesta perché la sai lunga per andare a scadenza zero e prendere più soldi dal Paris Saint Germain, quindi io ripeto ancora una volta, al di là dell'errore madornale dell'Inter di Zang e Marotta, soprattutto loro due, perché gli altri sono tutti con altri compiti, di Zang e Madornale a fidarsi di Skriniar o a pensare che Skriniar a zero poteva essere anche al limite accettato perché non c'era il sostituto, assolutamente no, in una situazione di bilancio come c'era all'Inter, meno 140, non puoi andare a rifiutare 50 milioni senza avere certezze, ma chiudiamo quest'ampia parentesi, ne parleremo ancora, domani c'è oggi, martedì, io dico oggi, ormai è passata mezzanotte, interagire con le telefonate, mercoledì sera con i nostri ospiti, chiudiamo questo discorso di Skriniar che poi non è che è stato espulso perché è chiacchierato, perché c'è tutta questa situazione, è stato espulso, stava pure giocando, a me piace nel senso che è l'unico aggressivo, l'unico che marca, gli altri difensori l'abbiamo visti quando sono rimasti dopo senza Skriniar, Caputo ha rischiato l'1-0 alla fine del primo tempo, a 4 non marca nessuno, De Vrij non marca, Bastoni non marca, non marcano, non marcano, Darmian è stato l'unico che ha chiuso nella difesa a 3 nel secondo tempo, poi è uscito pure lui, De Vrij nel secondo tempo è calato perché andava sempre in avanti a tentare il colpo di testa sulle palle inattive e non ce la faceva più a chiudere, c'erano state già l'avvisaglia del gollo due volte, si era fatto superare, però poi commette Skriniar al di là della foga eccetera, se ti ha ammonito, già per me il primo giallo può pure essere discutibile, ma l'hai preso, dopo non puoi entrare così al 39esimo lasciando la squadra in 10, quindi male pure lui, male pure lui, allora vado in ordine con i voti, Onana, ripeto poi l'Inter anche nel finale non avrebbe mai trovato il gol, Gossens due volte alto, Dzeko pure male al lato, Lukaku che stoppa e passa la palla all'avversario, solo Aslani un pochino l'unico che cercava è Onana con la, diciamo almeno la voglia, la velocità di rimettere la palla in gioco, a un certo punto lo stava pure criticando con De Vrij perché De Vrij dice batto io, ma batti tu cosa, vai avanti, dobbiamo pareggiare, batte Onana sulla tre quarti, ce l'hai il calcio forte e fai battere, muoviamoci, solo negli ultimi 15 minuti queste palle lunghe, prima niente, niente, proprio male, 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 Onana allora, Onana gli do sei meno, sul gol non era facile, lì c'ha la Nogu, va a raddoppiare su De Vrij, non si fida, palla al centro, il ritardo è scivolata su Baldanzi che tira forte, secondo me Onana è difficilissimo parare quel tiro a tu per tu, però ha preso gol, poi ha fatto un'altra parata, mi è piaciuto lo spirito, era uno dei pochi che aveva il giusto spirito, si arrabbiava anche nel primo tempo, quando la squadra non andava veloce ad andare ad attaccare, in difesa, allora Skriniar gli devo dare un voto bassissimo, perché al di là dell'atteggiamento che era giusto fino a un certo punto della partita, poi questo secondo fallo è disastroso perché lascia la squadra in dieci e quindi gli do due, la media tra il tre suo e l'uno nelle dichiarazioni di Sistici durante la partita, cioè non hai parlato per sei mesi ora durante la partita, mentre veniva espulso e uscita l'intervista, una roba proprio, una tempistica incredibile, e salterà quindi pure la Cremonese, tanto adesso la partita importante è quella con l'Atalanta, però attenzione perché ripeto in campionato quarti bisogna arrivare, non è che si arriva a motore spento, bisogna avere gli stimoli giusti, centrale abbiamo visto la differenza abissale tra Acerbi e De Vrij, Acerbi seppure riscaldato poi non è entrato perché l'Inter ha preso il gol e allora ha cambiato i subentranti, a De Vrij gli do quattro, non voglio infierire, a pure a bastoni gli do cinque, che si è proiettato in avanti poco e neanche bene, sugli esterni Darmian ha fatto qualche chiusura, meglio nella difesa a tre, troppo timido da esterno nel primo tempo, cinque e mezzo, Di Marco che sembrava l'allenamento del giovedì, cross e tiro al volo, parata, cross e tiro al volo, fuori, cross e tiro al volo, ma lo vogliamo fare? Il tiro e il cross pericoloso con tutta la rabbia, con tutta la determinazione, oppure così facciamo i tentativi, però almeno lui dà l'anima, cinque e mezzo anche per lui, Mkhitaryan non è colpa sua però se c'era il primo cambio da fare a centrocampo era Mkhitaryan, non Barella, gli do cinque a Mkhitaryan, sta giocando troppo sempre e non ce la fa più, soprattutto alla distanza, contro un centrocampo, ripeto dell'Empoli che aveva diversi giocatori, cioè il quattro giocatori del rombo più almeno una punta che veniva ad aiutare, do sei meno, tra i meno peggio Barella e Cialanoglu, Cialanoglu per il primo tempo, nel secondo si è andato spegnendo anche lui, però il meno peggio anche a livello tecnico, Barella a livello di corsa, quello più presente, però poi si è nervoso molto pure lui, si è fatto ammonire, poteva trovare qualche soluzione migliore, ma gli do sei meno a Barella e Cialanoglu, davanti male pure Lautaro, Lautaro oggi male, ha sbagliato pure il gol sullo 0-0, cadeva quasi senza nemmeno a volte subire fallo, male, male, quattro, non so pure lui se stanchezza o cosa, erano passati cinque giorni dalla Supercoppa, quattro a lui Correa, non ce la faccio più a dare voti vicini allo 0 ogni volta, sostituito alla fine del primo tempo, ed è stato incredibile che bisognava impegnarsi per far entrare un giocatore che potesse fare peggio di Correa, uno, e Bellanova ci è quasi riuscito, gli do uno, non mi è piaciuto che il pubblico ogni pallone, a volte Onana gli dava la palla per far partire l'azione, già c'erano i fischi, è vero che aveva sbagliato tanto e poi ha continuato a sbagliare e poi ha sbagliato praticamente tutto, però lo vedi in grande difficoltà, veramente in grande difficoltà, si vedeva psicologica, cosa fischi, cosa fischi, uno per Correa, uno per Bellanova subentrato, poi gli altri subentrati, ho detto salvo Aslani, il migliore, gli do 6, Gossens e Dzeko, gli devo dare un voto negativo perché hanno sbagliato quelle poche occasioni, ma anche Dzeko non mi è piaciuto a livello di grinta come entrato, quindi Gossens invece a livello di grinta bene, però poi ha sbagliato quei due tiri, uno da destra e uno da sinistra, ha alti e quindi 4 a tutti e due, sia Dzeko che Gossens, Lukaku, anche lui male, 5, solo 15 minuti e quindi 5, ma sempre insufficienza è, Inzaghi oggi proprio non l'ho capito, non l'ho capito, sia il modo di, ripeto, di affrontare la partita, sia la sostituzione Bellanova Correa, sia il mettersi 5-3-1 nel secondo tempo, sia aspettare nel secondo tempo per fare poi l'ingresso, fare entrare Dzeko, poi quando fai entrare Dzeko aspetti solo 4 minuti e poi passi dal 4-3-2 al 4-2-3 subito la sbilanci dopo 3 minuti, cioè secondo me è andato anche un po' in confusione oggi, da Cerbi lo metto, poi non lo metto, poi cambio, poi non cambio, aspetto, lui ha detto di no, ha detto di no, sulla domanda precisa, anche Zenga ha chiesto a Sky questa cosa da difesa 4, lui ripeto era convinto che in 10 un po' se l'è presa con questa cosa di rimanere in 10, però che causa del suo male pianga se stesso e se la prende, ma poi in 10 devi fare meglio, così come dovevi fare meglio nei primi 40 minuti, quindi male male in Zaghi, gli do due oggi, male male, anche questa cosa è solo a parte il Napoli, ma cosa a parte il Napoli? 37 punti in 19 partite, non è a parte il Napoli, è una media troppo bassa, l'anno scorso nel girone di ritorno brutto, dove si è perso Squetta erano 38, addirittura di più, addirittura di più, 6 sconfitte, 2 in casa, sono troppe, 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 e oggi anche quella cosa che è la sensazione che nel finale non si potesse fare nemmeno l'1-1, questi così palloni buttati in aria, ripeto, dietro c'è da pensare è altro che devrai offerta biennale a 4 milioni, quello è un altro, sarebbe un altro errore, clamorò, adesso siccome gli hanno fatto l'offerta, adesso dobbiamo pregare che lui rifiuti, perché se lui accetta hai una riserva, la riserva di Acerbi che prende 4 milioni e non rende, e non gioca, non ce la fa, non ce la fa. oggi veramente un disastro, spero insomma di non dovermi pentire, di lasciare i commenti aperti, ma vi chiedo gentilmente, cortesemente, di non usare un linguaggio volgare, di essere civili nei commenti, si può criticare ovviamente, se non si critica oggi, quando? guardo, ma con civiltà, con civiltà, è inutile che ricapitoli i voti, perché sono uno peggio dell'altro, ho salvato solo Aslani e un pochino Barella e Cialanoglu, il resto è sprofondo rosso, da Skriniar per l'espulsione, a Bellanova, Correa, Lautaro, Dzeko come è entrato, male, male ragazzi, male, 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 che brutto risveglio dopo la vittoria della Supercoppa, una curva commovente oggi, a cui do l'unico otto, perché hanno cantato incessantemente per tutta la partita, 65.000 e passa anche oggi, spettatori, che non sono stati premiati, anche un po' nel secondo tempo, non sembrava quasi giocare in casa per il resto dello stadio, a parte la curva, su quello dobbiamo migliorare, però la squadra deve anche un po' trascinare, un pochino, cioè veramente oggi l'anticalcio, oggi l'Inter ha fatto male, 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 in 11, in 10, in difesa, in attacco, a proporre proprio peggior partita, veramente che io rinforzo, la peggiore degli ultimi due anni, sicuramente la peggiore degli ultimi due anni, cioè peggio di così è impossibile, speriamo davvero che sia stata una sbornia dopo la vittoria, perché altrimenti diventa preoccupante per l'obiettivo minimo che è arrivare in Champions League e poi, ripeto, ci sono pure le coppe, soprattutto la Coppa Italia per quanto riguarda, attenzione, l'Atalanta, è un'altra squadra che se giochi come oggi ne prendi tre o quattro dall'Atalanta e poi ovviamente la Champions, cercando di recuperare adesso per esempio Brozovic, forze fresche, cercando di recuperare la situazione Skriniar, di capire cosa fare, di capire cosa fare, anche se non risultano offerte del Paris Saint Germain, quindi la sanno lunga, Skriniar e Sistici, altro che l'Inter mi aveva venduto, l'Inter non ti ha venduto nemmeno a 50, non ti ha venduto, la trattativa col Paris Saint Germain gli ha chiesto 80, non ti ha venduto nemmeno a 50, che per com'era il bilancio se ti voleva vendere, a 50 era un'offerta senza il rinnovo che non si poteva rifiutare, invece no, perché hanno creduto addirittura a poterti far rinnovare, a poter farti rinnovare il contratto, pensa un po' che polli, che polli. Buonanotte, si fa per dire a tutti, un caro saluto da Michele Borrelli, da San Siro, dal Meazza, Inter che chiude quindi al terzo posto insieme alla Roma, a 37, il Milan che a 38 deve giocare ancora con la Lazio, il girone d'andata. Ci vediamo domani, martedì, Inter agire, poi mercoledì anche con Intermercato, con i nostri ospiti. Un caro saluto da Almeazza, ciao ciao. Inizia pure a piovere, direbbe Mazzari, poi è iniziato anche a piovere, poi è mezzanotte e me, quasi mezzanotte e un quarto, è iniziato pure a piovere. Buonanotte. Grazie. Grazie.